Gli animali sono creature meravigliose, estremamente sensibili da rispettare e amare. Tutti gli animali, ogni vita, ha un valore inestimabile. L'obiettivo dell'OIPA, che significa Organizzazione Internazionale Protezione Animali, comprende la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente e la difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento. OIPA è per la diffusione dell'alimentazione vegetariana vegana. OIPA si occupa del benessere degli animali, in particolare io sono il coordinatore provinciale delle guardie zoofile e quindi noi ci occupiamo di far rispettare la normativa vigente a livello locale, regionale e nazionale. La nostra funzione è di polizia amministrativa, perché facciamo appunto rispettare la normativa prima che avvenga un reato e diciamo polizia giudiziaria nel momento in cui viene commesso un illecito penale, quindi verso gli animali ovviamente. I protagonisti dell'associazione sono tutti volontari soprannominati gli Angeli Blu. Tanti gli interventi delle guardie zoofile che vigilano sul benessere animale ed è importante segnalargli animali in difficoltà attraverso il sito www.oipapesaro.it C'è la sezione segnalazioni e ci sono dei form, dei campi da compilare e sarebbe anche molto utile avere delle foto in modo tale che le nostre guardie, che sono sempre volontari, riescano ad agire velocemente e a valutare la situazione quando si trovano sul posto, avendo anche il punto di vista del cittadino. Come poter fare per diventare volontari? Allora, anzitutto vorrei dire che in questo momento OIPA Pesaro e le guardie zoofile sono ben 40 volontari che ringrazio ogni giorno per la loro attività e che seguono animali in tutta la provincia. Come diventare una guardia zoofila? Ogni anno apriamo un bando per poter diventare guardia zoofila. Proprio il mese scorso è iniziato il corso e quindi andremo ad avere nuove guardie a primavera e possiamo quindi chiedere tutti gli anni di avere la vostra disponibilità per darci una mano, anche poche ore al mese. Se volete unirvi agli Angeli Blu e diventare anche voi volontari, potete contattare OIPA telefonicamente o attraverso il sito, dove è possibile anche sostenere l'associazione, tante le informazioni e i progetti che potete visitare nel sito, dove troverete sotto la voce sezioni tutte le notizie riguardanti la vostra regione e provincia.